Trista, innanzitutto notizie sul piede infortunato che sei uscito dopo il calcio di rigore? No, no, una botta, penso, cioè, sicuramente non è niente, è una botta che mi ha preso pieno e dicevo anche che non mi aveva preso, va beh, insomma, non mi ha consentito di tirare il rigore, però va bene, l'importante era vincere, abbiamo aumentato il distacco della seconda, e la domenica abbiamo la possibilità di, insomma, di andare, di prendere ancora punti, quindi, insomma, diciamo che è stata una giornata perfetta oggi. Ecco, vi siete allenati tanto durante il periodo natalizio, addirittura anche il primo di gennaio, i risultati si sono visti? Sì, no, il mister ci ha chiaramente chiesto dei sacrifici che noi senza problemi abbiamo fatto, quindi oggi era giusto che i sacrifici venissero ripagati e è stato così, quindi ogni tanto, insomma, si raccoglie anche quello che si semina. Ecco, nel mercato invernale è arrivato anche un altro attaccante di spessore, Federico Balestri, siete tu, Balestri e Granito, tre attaccanti che farebbero la felicità di qualsiasi squadra in eccellenza, addirittura anche in Serie D, vi vedo molto affiatati, chi entra, chi esce, fa il tifo per l'altro. Sì, sì, no, no, siamo tutti affiatati, ci abbiamo in mente, in testa tutti un obiettivo che è quello di vincere il campionato e fare bene in Coppa, quindi lo portiamo avanti senza alcun problema tra di noi, anzi, come detto te, c'è molto affiatamento e si vede. Ecco, sabato è la partita che potrebbe dare la svolta al campionato, in caso di vittoria sarebbero sette punti sul Pietrasanta e poi si penserebbe alla finale di Coppa. Sì, no, noi, a parte che noi, Pietrasanta o no, comunque noi si gioca ogni domenica per vincere, quindi domenica abbiamo la possibilità di giocare col Pietrasanta che è la seconda in classifica, quindi se si interpreta bene la partita come abbiamo finito nel 2013 e come abbiamo iniziato nel 2014, insomma, penso che i valori sono dalla nostra parte, quindi speriamo bene.